Era il 5 giugno del 1975 quando il carabiniere Giovanni D'Alfonso sulle tracce di Vittorio Vallarino Gancia perse la vita in un conflitto a fuoco con la brigatista rossa Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, nei pressi di Aquiterme in provincia di Alessandria. Questa storia, come tante altre, di uomini in divisa vittime di terrorismo, sono ricostruite e raccolte nel libro Anni Bui del giornalista Salvatore Lordi. Un volume di 533 pagine che ripercorre storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980. Siamo negli anni di piombo, culminati nel 1978 con l'uccisione di Aldo Moro. Sono pagine in cui non si racconta il decennio o i decenni della strategia della tensione. Si raccontano storie di vita di semplici carabinieri, poliziotti, finanzieri che hanno pagato con la vita il modo di difendere la democrazia nel nostro paese. Avvenne tutto così in fretta nel giorno della festa dell'arma dei carabinieri. Il giro di ricognizione, l'arrivo alla cascina spiotta, il conflitto a fuoco, il ferimento del tenente Umberto Rocca che perse un occhio e un braccio a causa dell'esplosione di una bomba e quello letale di Giovanni D'Alfonso. Proprio l'amministrazione comunale di Penne, a distanza di 46 anni, ha voluto ricordare il carabiniere nato nel centrovestino nel 1930 con questa presentazione a cui hanno partecipato la vedova Dina e i figli Bruno Cinzi e Sonia, i quali con il cuore gonfio di emozione hanno raccontato alcuni aneddoti del D'Alfonso, non carabiniere. Anche se lui è andato via da bambino, però era giusto ricordare questa splendida città, insomma, i luoghi dove lui da bambino ha vissuto. Come ho detto prima, ho preso la parola e ho detto al cuore colmo di emozione, commozione, è difficile parlare, però è stata comunque una cosa bella perché queste cose riportano i nostri cari in vita e quindi ce li fanno sentire sempre vivi e vicini. Oggi è stato un appuntamento importante perché dopo mesi di chiusura legata appunto al lockdown ripartiamo con l'attività culturale, quindi con la presentazione del libro Anni Bui di Salvatore Lordi ripartiamo con una serie di iniziative, a breve ci saranno altri eventi culturali perché Penne deve tornare a correre, diciamo così, tornare ad abbracciare la vita, la normalità che ovviamente dopo mesi e mesi di chiusura ne abbiamo proprio bisogno.